Oggi andiamo a parlare di un gioco che mi ha fatto guadagnare 180 dollari in tre settimane a zero investimenti, giocando a un gioco che addirittura mi piace anche un botto, di carte collezionabili. Questo lo vediamo in questa bella deep analysis dell'avvento. Per chi non mi conoscesse io sono Polve, su questo canale tratto di NFT, crypto in generale, play to earn, metaversi e di tutto quello che appunto riguarda questo splendido mondo, piattaforme DeFi eccetera eccetera. Se non mi conosci mi raccomando iscriviti al canale Scampanella la campanella, se mi conosci già Scampanella la campanella se non l'hai fatto. E da questo vi ho già anticipato di cosa stiamo parlando, questo è Gods Unchained, un gioco di carte collezionabili, potete vedere qua una piccola anteprima, è veramente molto simile, quasi al limite del plagio per quanto riguarda appunto quello che è Hearthstone. Come si gioca? Si hanno degli eroi e si hanno delle carte che sono a tutti gli effetti dell'NFT, si gioca con mazzi da 30 carte e con un eroe. Le vittorie e le classifiche ci permettono di guadagnare pacchetti, ci permettono di guadagnare appunto dei pacchetti che poi possiamo adesso andremo a vedere tutti nel dettaglio trasformare in carte NFT vendibili e possiamo andare a guadagnare appunto dalla classifica e dalle varie vittorie. Quello che vi dico è che questo gioco è su piattaforma Ethereum ma non è soggetto a tutto quello che è il problema di Ethereum, cioè le fee, perché è stanziato sulla piattaforma ImmutableX. ImmutableX che è una piattaforma che chiude in sé una vagonata di giochi creati direttamente da loro, appunto come in questo caso da altri dev che collaborano appunto con la piattaforma ImmutableX e viene gestito tutto sulla loro piattaforma. Come sempre parliamo sul white paper per prendere delle informazioni, perché prende le informazioni in modo veloce aiutandoci. Intanto parliamo dei previous bankers che sono Apex Capital, Coinbase, Galaxy, OKEX. Vi aggiungo anche che il principale investitore è iNaut Capital che è anche uno dei principali investitori di ImmutableX, quindi ha fatto praticamente suo questo gioco. Andiamo direttamente sotto prima di vedere un po' la tokenomics del token di governance per andare a vedere appunto chi è il team. Chris Gley, lui è il game director di Magic the Gathering e adesso appunto il game director di Gods Unchained. Qua sotto vediamo il lead art director che è Matt Eldrick, perché vi cito anche lui, perché è un'esperienza in A-Sports e in Lucasfilm. Infatti si vede perché le animazioni, i disegni e tutto quello che concerne il comparto grafico del gioco è veramente molto molto curato. Si ha lavorato anche nel franchising di Tom Rider, Assassin's Creed, James Bond, Lord of the Rings, FIFA e Star Wars. Quindi insomma stiamo parlando veramente già con questi due senza andare a scorrere tutto il resto di personaggi di un certo livello. Quindi abbiamo visto che c'è un team interessante dietro, che c'è un zoccolo duro di investitori dietro. La stessa ImmutableX andrà appunto a pompare molto questo gioco. Quindi Gods Unchained da questo lato assolutamente top. Andiamo a vedere il token GODS, la supply allocation molto velocemente. Il 34% sarà nel play to earn rewards. Tutto il resto in GODS Unchained Reserve, Community, Community Allocation, Token Foundation e Token Sale. Cosa vi dico senza andare tanto a entrare nei tecnicismi? Che quello che ci interessa a noi è la parte play to earn, cioè che andremo a guadagnare GODS, che poi potremo andare appunto a scambiare per Ethereum con le Weekend Ranked Rewards, con i Daily Token Reward System, le Quest, i Season Rewards, i Tornei. Tutto il resto poi c'è anche una parte di stake. Si potrà, adesso ancora non si può mettere in stake GODS. Vedete qua sotto vi lascio il disegnino su quello che sono le rewards calcolate sui sette giorni. L'altro metodo di guadagno con i GODS sarà appunto andare a craftare le nostre carte NFT. Questo ve lo faccio vedere qua direttamente sul gioco. Il Token GODS non sarà utilizzato solo per essere appunto scambiato e dampato, ma ci servirà, e quindi questo aiuta a tenere su il prezzo del token, che attualmente è sui 6 dollari, ma poi andiamo a vedere, perché ci servirà anche come token utility. Per quale motivo? Perché c'è una forgia in game che ci permetterà di andare a forgiare, andando ad unire due carte identiche dello stesso tipo, per esempio una e una 2, una carta che non era appunto un NFT, ma che diventerà un NFT scambiabile sul mercato. In questo caso vedete che ci chiede 20 Flux, che va bene, è una moneta che poi capirete, giocando, viene data nei vari combattimenti, ma non verrà mai scambiata, serve solo per queste cosucce. E 0,1 GODS per andare a coniare questa carta, che è comunque una carta comune. Se volete poi vedere un approfondimento su come funziona la forgia nel dettaglio, lo andremo a vedere. Vi basta sapere che in questo momento, con la forgia, riusciamo a forgiare delle carte, che poi riusciamo a vendere per Ethereum direttamente sul marketplace esterni di Immutable X. Il guadagno maggiore ovviamente lo avremo tramite i rewards, che sono dei rewards settimanali, che vengono versati ogni lunedì. Come vedete io qua in alto ho 27,58 GODS, che adesso andremo a vedere quanto valgono effettivamente. Ne ho spesi un 3-4 per andare a forgiare determinate carte, quindi ho speso anche un bel po' di soldini, che però mi sono rientrati vendendo le carte. Se andiamo a fare un calcolino di quanti soldi ho io adesso, arrotondiamo nel mio portafoglio in tre settimane di poche ore di gioco al giorno, un'oretta al giorno, ok? Allora facciamo 30 per arrotondare, sono 165 euro, quindi ci siamo, 180 dollari. Ripeto, io ne ho spesi un 4, quindi ne avevo 31, ci siamo. Sono quella la cifra che ho guadagnato. Cifra che ho guadagnato in realtà di più, perché poi ho venduto le carte, qua adesso vedete solo 0,001 Ethereum, ma in realtà ho venduto e comprato altre carte per avere un deck più potente, per poter giocare e arrivare a livelli più alti e quindi guadagnare più punti, punti che poi ci permettono di avere i reward settimanali molto più alte. In questo momento ripeto 0,01 ETH, però ho comprato delle carte molto forti, quindi ho speso quei 30-40 dollari in carte. Io sto usando TokenTrow che è un marketplace appunto collegato a ImmutableX, c'è anche il marketplace ufficiale, però lo trovo un po' più scomodo, ovviamente è molto più comodo per quanto riguarda, anche se si può fare anche su TokenTrow, per quanto riguarda lo swap dei vari token, perché io adesso vado a connettere il token diretto a ImmutableX. Ok, una volta collegato, se vado su Inventory, posso vedere le mie carte NFT, che posso appunto poi andare a vendere, posso vedere il mio attuale portafoglio in Ethereum di Immutable, posso andare poi a depositare direttamente qui Ethereum, GODS o quello che vogliamo, e posso anche andare a scambiare, andare a portare i miei GODS su rete Ethereum. Ovviamente io vi sconsiglio di farlo all'inizio, vi consiglio di accumulare un po' di GODS, poi se volete appunto andare a spostarli, tenendo presente che una parte vi conviene tenerla direttamente su ImmutableX, perché vi servirà per andare a coniare appunto l'INFT, le nuove carte, potete andare qui a destra dove c'è il deposito, cliccate su ImmutableX sull'Ethereum, scegliete i GODS, e vedete che potete andare a trasferire i vostri GODS direttamente sulla mainnet. Mettete l'amount che volete andare a trasferire, fate continua e poi vi darà un'indicazione di quelle che sono le fee. Ovviamente, ripeto, essendo le fee di Ethereum molto alte, se su un guadagno di 180 euro dovete andare a spendere 20-30 euro di fee, io vi consiglio di accumulare un po' di più, in modo che poi, ripeto, quel trasferimento che fate è unico e lo fate su una cifra un po' più grande. Tramite ImmutableX è un po' spezzettato su vari siti, il marketplace da una parte, devi farlo su Immutable, il claim lo puoi fare sia su Immutable che sul sito, io di solito lo faccio sul sito, vado su GODS Unchained, vado su GODS Token Claim, ok, ci fa firmare il nostro contrattino, vedete qua c'era, questa parte qua sopra, i retro rewards, è solo per chi giocava a GODS Unchained, prima che uscisse il token, e chi giocava prima che uscisse il token si è beccato pure 7-8-10k gratis, così, 10k dollari gratis, perché hanno fatto un airdrop dei GODS, io ovviamente non giocavo, quindi non ho avuto quell'airdrop, qua sotto abbiamo tutta la spiegazione su come si ricevano, in questo caso, per l'evento che c'è in questo momento in corso, cioè il Blessing of the GODS, ci spiega che cosa ci fa guadagnare, come andiamo a guadagnare, non sto adesso ripeto qua a spiegarvi tutto punto per punto, sappiate che questa cosa va a punteggio, se voi siete molti più alti nel ranking, avete fatto determinate vittorie, avete giocato a più eventi settimanali, che si dividono su tre step, il lunedì, il venerdì, riceverete varie ricompense, sia in carte, ok, quindi in pacchetti con carte NFT, oppure carte anche non NFT, ma riceverete vari pacchetti, e in più riceverete i vostri GODS, qua a destra avete quello che avete dovuto completare, per essere elegibili al claiming, selezionate il vostro wallet, e qua sotto vi verranno i vostri GODS, appunto, che potete poi andare a ritirare. L'ultima cosa che vi faccio vedere, è questo sito che vi lascio in descrizione, che ci permette di vedere dove siamo in rank, i nostri punteggi, le nostre vittorie, quanto ci manca appunto arrivare a raggiungere i nostri requisiti, io adesso non riesco a farvi vedere i miei requisiti, perché il mio profilo, nonostante sia registrato, è praticamente buggato, e questo è uno dei bug che dovranno risolvere, o comunque dovranno risolvere a me, se voi andate a cliccare sul vostro profilo, o sul profilo di qualsiasi in alto, che volete stalkerare, riuscite a vedere i risultati, che dovete raggiungere, vedete che, ci sono i base points, poi in realtà, ripeto, viene suddiviso in tre parti, ok, questo evento, Blessing of the Gods, poi non so se i prossimi saranno uguali, ma penso che saranno simili, il minimo guadagno, ovviamente viene fatto con i base points, quindi dovete fare 20 partite, con 17 giocatori diversi, e vincerà almeno 7 di queste partite, ovviamente più vincete, più fate, più bonus fate, più andrete a guadagnare, qua riuscirete comunque a vedere a che punto siete, riuscirete a vedere a che punto siete, nel vostro claim dei pacchetti, vedete qua sotto c'è una trendline dei pacchetti, e vedete come hanno funzionato i vostri deck. A questo punto pensavo di avervi detto tutto, questa analisi dell'avvento, credo che sia stata molto istruttiva e simpatica, il gioco vale veramente la pena, ci permette svariati metodi di guadagno, sulla falsariga di quello che è stato Splinterlands, io mi sono buttato, ovviamente ripeto come sempre, non vi posso dire che vi dovete fare cose, perché è un consiglio finanziario, ma io la terrei d'occhio a questa opportunità, perché se ci entriamo adesso, poi in futuro, una carta che adesso vale 2 dollari, potrebbe valere pure 20 dollari, e quella che vale 50, potrebbe valere pure 1000, quindi lo scambio di NFT, e il guadagno costante, e semplice, a zero investimento, secondo me, è un'occasione da andare a sfruttare. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Grazie a tutti.